Da questi primi passi del cammino sinodale, quale ricchezza si può gustare? Credo la ricchezza di comunità che cercano di ascoltare la parola del Signore e ascoltarsi a vicenda. Ed è un esercizio di chiesa. Sappiamo bene quante difficoltà ci siano, quanti scetticismi, però chi si coinvolge cambia opinione. Ti rende conto che c'è un modo diverso, più gioioso, più snello di essere chiesa, forse anche più evangelico. Da una chiesa clericale ad una chiesa sinodale, quale conversione richiesta come singoli e come comunità? Come chiesa ci sediamo alla meta e aspettiamo, magari indicando a chi sta salendo per il sentiero quali passi fare, quale velocità tenere, dicendo se è fuori dal sentiero, se lo sta percorrendo bene? Oppure ci mettiamo in cammino con le persone verso l'unica meta che è Gesù? La prima è una chiesa clericale, la seconda è una chiesa sinodale. Lei ha usato l'immagine del cammino sinodale come un grande esercizio spirituale, perché? Non si tratta di effettuare semplicemente delle rilevazioni sociologiche, statistiche o quantitative. Si tratta di assumere un atteggiamento di ascolto di ciò che lo Spirito dice alle chiese, come ci chiede San Giovanni nell'Apocalisse. Cioè di vedere che cosa nel cuore dei credenti e anche di coloro che magari credono diversamente o non credono, quali ricchezze deposita lo Spirito, quali sogni le persone esprimono e come la Chiesa, attraverso l'annuncio del Vangelo di Gesù risorto, può andare incontro a queste domande. Grazie